Non mi accontento, do il massimo, sempre. È il mio stile. Se sono le azioni a fare un uomo, sono io l'uomo di oggi. Un uomo non si accontenta. Rimani concentrato, mi dico. Sei un uomo. Più di una stretta di mano o di un lavoro ben fatto. Fanno la disciplina e l'impegno, vissute ogni giorno. Giudica dai fatti. Sii fedele a te stesso. Questo fa di me un uomo di successo. Questo fa di me l'uomo di oggi. Boss Bottled. La fragranza maschile di Hugo Boss.